La sclerosi laterale amiotrofica è una malattia rara in termini di incidenza in quanto in Italia ha un'incidenza di circa 2 casi ogni 100.000 abitanti con una prevalenza di circa 8 casi ogni 100.000 abitanti tradotti in numeri che significa circa 5.000 malati al momento attuale in Italia. I meccanismi della malattia in effetti sono molteplici, molti conosciuti, molti ancora sconosciuti. Sicuramente negli ultimi anni la ricerca ha fatto una sida gigante nella comprensione dei vari meccanismi che portano all'evento finale, cioè allo scatenamento della malattia. Sempre più la convenzione che si tratti di una malattia multifattoriale, sempre più la convenzione che intervengano meccanismi genetici nello slatentizzare o nello scatenare.